L'accordo di partenariato che abbiamo sottoscritto e che oggi ribadiamo inizia a muovere i suoi passi operativi, cioè quello di tracciare il più grande cammino d'Europa, un cammino che noi vediamo come un'azione di sviluppo territoriale, di grande spinta per il turismo, recuperandolo la nostra identità che c'è in tutte le regioni italiane o nella grande maggioranza di esse, nonché in molti paesi d'Europa e grazie all'opera del Presidente Ciambetti riusciremo a portare all'attenzione dei ministeri competenti la richiesta dei necessari finanziamenti per realizzare questa infrastruttura. Storie di persone, di uomini, di famiglie che con l'allevamento, con la transumanza hanno potuto trovare una forma di reddito e hanno potuto sostenersi nei secoli scorsi. Noi li guardiamo non sicuramente con nostalgia, ma li guardiamo proiettati al futuro, una transumanza riscoperta a lungo tracciati, percorsi dentro al profondo del nostro paese, le aree interne che normalmente sono fuori dai grandi flussi turistici, dai grandi progetti. Questo è un progetto di valenza europea che non era scontato, che ha messo assieme le energie di tantissime regioni in Italia e che grazie appunto anche all'ingimiranza di Lorenzo Sospiri ha potuto trovare il là per partire, per poter essere appunto coordinato, esteso da una cabina di regia, un gruppo di lavoro importante.